musica bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui è X-Lenath che vi parla e oggi siamo qui su Dark Souls 2 con il secondo episodio allora ci troviamo qui a Majula e tra poco ci incontriamo con Qubi però dobbiamo raggiungere il fallo successivo al secondo boss che abbiamo visto nel secondo episodio quindi lo faremo insieme e adesso sono qui dal fabbro che voglio rafforzare la spada la spada allora voglio rafforzare anche spada la spada passata ci sta allora la spada corta dove cazzo sta ok 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 allora spostiamoci a l'idea e andiamo dove dobbiamo andare caricamento overpower ok 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 non è che mi serva molto ok questo sarebbe la strada bastardo giusto? ok facciamo pure questa merdaccia ok è morto buono è abbastanza forte questa spada credo che mi piaccia ok proseguiamo questa strada l'avete già visto perchè l'abbiamo fatta insieme io mi farò questa volta la strada solo si si ok ok sappiamo che con tutta la stamina lo inculiamo a sangue quindi è positivo ho questa spadina allora su vieni qui bello cazzo cazzo ho fatto una cazzata raga ok merda perchè ti avvicini ma io direi di scappare raga si dai andiamo veloce a parte a parte qualche filo di puttana che è tipo da avanti allora si quello lo eliminiamo se questi mi stanno inseguendo adesso ce lo prendiamo leggermente nel culo cazzo cazzo allora cubi mi ha detto di proseguire raga questa è tutta strada nuova per me cioè non so un cazzo curiamoci non si sa mai ok ah ok c'è questo falo però non è questo che dice cubi è quello che trovo nelle caverne dovrebbe essere quale caverne oh una giusta porta fortuna del monastero buono sarà qualcosa di buono speriamo oh oh cazzo ma perchè sono questo coglione ok curiamoci non voglio rischiare di morire perchè sennò poi i cubi mi incula sangue mi veste al mio conto allora testa di cazzo vieni qua cazzo ho fatto una puttanata l'importante è saperlo ok eliminato anche quest'altro allora prendiamo questo oggetto qua ah due oggetti tre oggetti buono sono anime antica alabarda da cavaliere io non posso usare l'alabarda però dovrei usare l'antica alabarda ok sperando che sto andando bene come cubi voleva dove cazzo perchè me ne è arrivato dove sta lui tanto non puoi passare aia 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 via no no non hai capito un cazzo tu è morto si allora curiamoci ok raga mi è arrivato il suggerimento da cubi tramite whatsapp e mi ha detto che dovevo scendere dalla scensura per raggiungere il suo punto cioè per incontrarci ed evocarci quindi scendiamo se c'è qualcuno che mi cura il software sappiate che la colpa è di cubi inizio inizio aia 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 il l'acqua mi rallenta e a me dà naturalmente fastidio ok grandi ragazzi allora non so se devo mandare sopra io provo ad andare di qua se di qua è chiuso ah ok in breve fallo più avanti alcune volte serve leggere i messaggi dei giocatori che ci sono stati prima cioè che li lasciano ma io c'è un niggio c'è l'edio oscar no oh attenzioni da qualche tempo dai andiamo a casa dove da che parte io non ci fai occupa tanto lo vedrai nel video ah ok ah ok ci sono i bimbenutellosi yeah mi hanno inculato a sangue con la frecce che cazzo è sto coglione qua dai dentro qua dai dentro qua ma mi copri dai dietro ma mi copri dai dietro no ma sei un bastardo ma 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 ah ok si può scendere pensavo di morire no comunque si può scendere però lo so lo so è un gioco bastardo no non lo è ma allora lui dice che non è bastardo solo così il gioco crede che capito lui crede che il gioco abbia pietà di lui facendo lui le calcula il gioco in poche parole si certo non è quello che non è fatto più dopo ma è finito nove volte l'hai finito nove volte si ma non ti fai schifo no 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 fatti schifo no io mi giusto giusto lo so lo so lui si diverte ad essere fatto il culo si diverte no perché no 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 aspetta aspetta lascialo lascialo così guarda guarda si sta fappando da su non so chiudi che cristo di cosa è questa cosa anche 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 un po' per l'altro ma è anche un po' per l'altro ma è un po' per l'altro ma è un po' per l'altro ma è un po' per l'altro solo un po' solo un po' ho detto solo un po' più perché mi ribatti eh chi vi eh 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 ah pensavo che ti in culo ah quello raggo quello ci pensavano a quello giusto vieni 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 hai l'hai di democrats è che sei più sicuro eh sì è più sicuro dicevi chi va quindi la spada battata eh eh E' tipo Epic QB, la spada vasta. Oddio! Non c'è tanto edifico i programmi. Arriva a bella distante. E comincia la gara. Blag, 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 blag. Ok, per il tutto il mondo, per tutto. QB io seguo a te. Però non andare tantissimo avanti, se no mi perdo. Ok. L'oltre. QB ti stanno... Vabbè, come faccio? C'è tipo vado sotto, vai. Una mano. Ok Armatura dei vichinghi Ho detto male Dei varianti Dei varianti, ecco, ho visto, ho detto male Ascia da bandito, cappuccio da brigante, armatura da brigante, guardi da brigante, patolini da brigante, tutto da brigante Servizio è completo Posso andare a fare la sfilata di moda Ho, no Aspetta che stanno fare un paio di bauli Va bene ma capisco Ho la vita al massimo Sì, è quello che vuoi fare Ok, io penso Sì, sì, si, si Si zalta Ah, ok, si salta Guarda, lui mi osserva, sperando che cado, è vero? No, la sua maggiunate Ecco uomo di poca fiducia ok ti sento un piccolo progetto alcuni mi credo che ti dà la panna sola della ruta come questa butta le giù diceva ok a parte queste che fanno paura aspetta un attimo perché hanno paura ok andiamo perché toto la torcia oh bellissimo che bello ma questi che ma perché tu ok sponda i muri non so quanto possa essere ma vediamo non so quanto possa essere positivo il fatto che sponda un muro immagina un pro fuori non so quanto non so sì no io non ho avuto tutto tutto no non so èvenuto ma ora ho grandi bellissimo c'è il motivo di un milanmo il lo lo aspettavo da sempre se questa cosa allora c'è tipo dopo mi carico e vengo a vendere tutto vabbè comunque fanno aprire i bauli spadone oh cacchio no a me ti ho avuto la cadetta si mi è venuta oggi e mi ha questi aspetta un attimo vabbè lui va ma è ancora qua lui è ancora qua eh già aspetta un attimo si sì c'è un oggettino potete dirlo no non lo vedi no lo sai che sembra ah ma la humla mi sono arrivando di là oh mio dio il velero fantasma è proprio lui è proprio meno mh mh cubi dove sei andato sotto io ah ok ok non conosco la strada quando è che mi lasci tipo all'inizio del gioco e tu stai alla fine mi sono andato mi sono andato in pubblica di santa c'è un falò c'è un falò c'è un falò c'è un falò che bebe che bebe vabbè ah c'è un falò sì c'è un falò hai mh che bebe appena ho mia Dì ah dico c'è un falò che bebe che bebe vabbè affari pocchi è un falò che è un falò che non 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 è un falò Aspetta Ubi, dove stai? Sopra Sopra dici che c'è un altro muro Cioè tu adesso mi lasci con il dubbio che devo cliccare su tutti i muri che trovo Bravo, è così che ti copra via quella cosa Bravo Aspetta, dove sei? Eh, ma devo uscire anche io o devo andare di là? Deve uscire? Vabbè, io non mi sento il capo Ah, ok Ah, per tornare, ah, ho capito Sì Eh, non ce l'ho capito Eh, sì, sì, capito, capito Capito, capito, capito Capito, capito Capito, capito Capito Questa mura e molte poste battendo Capito 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 che capo allora, che vieni qua e qui, grazie colata era di qua si, guarda che belli ah, no, è nato quello ok, se no ci sono 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 oh, non ci sono ok, tutto grandi cubi e poi questo è un altro allora, aggiungete cubi il link lo vedete se volete fare il big money su Dark Souls sapete come giocare mi serve a giusto ah, ma c'è l'altro molto più forte di te molto più forte di te sì non sei forte questo c'è l'altro adesso c'era eh, adesso metti un po' come questi vedi guarda, fai così out 8 8 l'ol l'ol morto eh, praticamente tutti i ripardi quando hai 26 all'otto ti saperisci mai due ah, buono cioè positive per la macchina però però rimango quello perché prende in San Vecchini ok 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 eh eh ora mi vuoi rimontare perché è scaduto il mio tempo che cosa? ma è però è però ah sei per rimanere è saluto ah ok lol è scaduto il tempo a chiopi wow quando i Niente Grazie. 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 vabbè poi non siamo un cazzo lo stesso con la spada di fuoco dai, andiamo, li ho fatti fuori io a questi aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, metto l'oscuro, ok? vai, andiamo non ho capito i tuoi consigli, ma io tipo adesso, a te che errore non faccio allora, buona proposta aspettando che è una foto, quindi la foto è una foto vabbè, la fisica porta che, direi, lo dovesse mentalizzare ma è un po' scarsino cioè avvitano allora, ci sono di pulina o no? vai, andro di qua 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 qua? no? coi danno ah, ho vedi che è così bloccato giù vabbè, ma a me tipo con tutti la strategia quella di stirare ok sono così qua Grande Q Eccoti qua Che abbiamo finito Ok 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 Ciao a tutti Ciao a tutti Un più Un più violante Ok troviamo Oh Oh mio dio bellissimo Allora prendiamo il ball Che è più interessante Oh mio dio Oh mio dio Ce l'ho voghiamo Ok la nave di Jack Sparrow, che pa! Allora Speriamo di trovarlo easy, velocemente. Allora... Sicuramente dovevo andare alla censura, molto sicuramente. Si va sopra... sopra. Allora, dovevo andare al falò. Il falò, non lo so. Un canzone. Allora, non c'è più niente. Qui ci sarà un altro oggetto, invece un cazzo. Non c'è più niente. Bastiglia per volta. Dove cacchio si va? Rutto con nome. Ah, ma io sono tipo senza vita. Si è tipo un uccino in culo. Ah, eccolo qua il falò. Qualcosa di epico. Qualcosa di non falò.